Ciao e ben ritrovato con le videopillole dedicate al guru che è in te. Se scegli di aiutarti, l'aiuto arriverà. Questa frase è qualcosa che non può essere spiegato scientificamente, però descrive come funzionano le leggi della vita. Solo dopo che tu decidi consapevolmente, attivamente, con tutte le tue forze di aiutarti e quindi adegui i comportamenti in base a questo intento, accade che poi le situazioni, le persone, le occasioni si muovano per venirti incontro. Se ti trovi in difficoltà, decidi innanzitutto che ti aiuterai e agisci in conseguenza di questa decisione. Fai il possibile e scommetto che prima o poi qualcosa si metterà in moto.